Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Quest'oggi cominciamo facendo il punto sulla campagna vaccinale anti-covid in Toscana perché c'è stato l'intervento proprio nell'aula del Palazzo del Pegaso dell'assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini che ha illustrato le strategie della regione e le richieste fatte anche a livello nazionale. Procedere quanto prima con la vaccinazione delle persone estremamente vulnerabili e degli assistenti familiari e prevedere azioni mirate per arrivare quanto prima alla copertura vaccinale totale degli over 80 e quanto chiede alla Giunta Toscana una risoluzione del PD collegata alla comunicazione dell'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini in merito alla campagna vaccinale approvata dal Consiglio regionale. Per il mese di marzo ci saranno consegnate 400.000 dosi e noi le somministreremo tutte appena ci saranno consegnate. Ci auguriamo, ha affermato l'assessore, che in aprile e maggio ci sia un ulteriore balzo in avanti delle forniture e noi ci stiamo attrezzando per avere performance più rilevanti di quella che stiamo sostenendo in questa fase. Tra gli altri testi collegati alla comunicazione di Bezzini e approvati dall'Assemblea Toscana ci sono anche due atti presentati da Italia Viva che chiedono la priorità per soggetti fragili e per i lavoratori dei servizi essenziali e una mozione del capogruppo di Forza Italia Marco Stella riguardante l'inserimento tra le priorità del piano vaccinale delle persone con disabilità. Noi stiamo facendo un lavoro enorme, organizzativamente importante. Penso che sia giusto spiegare ai cittadini che il nostro compito non è quello di produrre i vaccini, il nostro compito è di somministrare nella maniera più rapida e più efficace possibile tutti i vaccini che ci vengono consegnati. Noi oggi con questa comunicazione e con la risoluzione collegata chiediamo al Governo di darci più vaccini, di parlare con l'Europa con ancora più forza. Più vaccini avremo, più riusciremo a combattere questo terribile virus e noi vogliamo far rialzare presto la testa alla nostra Toscana e per questo con forza facciamo questa richiesta sia al Governo sia all'Europa. Oggi ci arriveranno nel mese di marzo tantissime altre dosi, 250.000 di Pfizer, 100.000 di AstraZeneca, 50.000 di Moderna, ma sono ancora, come capite bene, 400.000 dosi, molto, molto meno delle esigenze che hanno i cittadini della Toscana. Mandiamo un messaggio a tutte le cittadine e a tutti i cittadini. Capiamo la voglia di correre, la corsa al vaccino, però ci sarà per tutti. Noi cercheremo di somministrarlo nel più breve tempo possibile e lo faremo partendo dalle categorie, come stiamo facendo fino ad ora, più fragili, gli anziani, l'RSA, chi lavora in prima linea, i medici. Insomma, la sfida vaccinale è la sfida dei prossimi mesi, ma non è solo una sfida per l'oggi, è una sfida per il domani, perché chi per primo riuscirà a vaccinare la gran parte della popolazione, per primo potrà tornare ad investire nell'economia, ad investire nell'attirare imprese, ad investire nell'attirare turismo. Questa è la sfida del futuro, dopo la crisi e l'emergenza sanitaria, che è ancora forte in queste ore. In Toscana ci sono 3.730.000 persone, il fatto che ad oggi se ne sono vaccinate 250.000 non ci rasserena per nulla, ma ci rende preoccupati. Per questo uno dei due atti che presentiamo oggi è la richiesta a Gianni di farsi promotore presso la conferenza Stato-Regioni di sospendere i brevetti, di espropriare i brevetti delle aziende farmaceutiche titolari dei vaccini e di produrli in proprio, di farli produrre al tessuto industriale farmaceutico italiano e toscano, che è all'avanguardia a livello internazionale. Sono spariti, guarda caso, le dosi di vaccini dal mercato europeo e sono comparse nel mercato statunitense dopo che Biden aveva appunto minacciato di fare un'operazione del genere. 250.000 toscani sono stati vaccinate ad oggi, non sono nemmeno il 10%. Noi siamo fortemente preoccupati, a questo bisogna porre rimedio. Non è colpa della regione toscana, non è colpa dell'assessore Bezzini, ma il suo atteggiamento tiepido, remissivo rispetto a questa cosa ci preoccupa. Vogliamo più polso, vogliamo che l'Italia, la Toscana battano i pugni sul tavolino e vogliamo più dosi per mettere in sicurezza il maggior numero di persone possibili. Abbiamo letto e sentito dall'assessore 180 pagine di cui la metà sono i bugiardini dei vaccini, altra buona parte è come si fa a mettere nella siringa la fiala realizzando il vaccino che deve essere ricostituito. Quindi sinceramente ci aspettavamo qualche cosa di più, sinceramente, anche qualche cosa parecchio di più. Questa comunicazione sui vaccini è uno status che riteniamo piuttosto deficitario. I criteri così tanto entusiastici non credo che dobbiamo considerarli tali. Credo che in una situazione di emergenza come questa le incombenze burocratiche devono essere assolutamente bypassate e superate, se no non si va da nessuna parte. Siamo assolutamente delusi da quello che ci è stato detto, lo abbiamo detto sia al Presidente Gianni che all'assessore Bezzini. Questo clima da va tutto bene a noi non piace, non va niente bene. Sono stati vaccinati in Toscana soltanto 260 mila toscani, su oltre 3 milioni e 700 mila abitanti. Se andiamo di questo passo i toscani saranno vaccinati fra oltre tre anni. La domanda è possiamo aspettare tre anni per essere tutti vaccinati? Assolutamente no. Ecco perché abbiamo chiesto un cambio di passo, ecco perché abbiamo chiesto all'assessore e al Presidente che battano i pugni sul tavolo. La responsabilità è di Roma perché non arrivano i vaccini, si facciano sentire. Potremmo arrivare al punto in cui, da partire dal Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, i vaccini si devono fare. Vanno alle case farmaceutiche, fanno chiudere i ristoranti, fanno chiudere gli stabilimenti balneari, ci tengono in casa per tre mesi, fanno chiudere tutte le attività commerciali. Dicano pure alle aziende farmaceutiche che stanno producendo i vaccini, ci dispiace, dateci il brevetto. Perché se non siete in grado di garantire le dosi necessarie per vaccinare i nostri cittadini in tempo utile per fermare la pandemia sanitaria, per far riprendere quella che è la più grande crisi economica dal dopoguerra ad oggi, e allora quei brevetti devono diventare patrimonio dell'umanità. Perché quei brevetti servono a salvare, in un caso, le vite e dall'altro anche la nostra economia. Se la Regione Toscana farà valere la sua forza nelle sedi opportune per poter forzare i brevetti, in modo da poter utilizzare quella clausola che permette, in caso di pandemia e di emergenza sanitaria, di fabbricare i brevetti inderoga i vaccini, inderoga i brevetti, forse potremmo prevedere che in un futuro si arrivi anche a una produzione nazionale e regionale in grado di sopperire alle necessità. Perché ricordo che l'immunizzazione dei vaccini non dura per sempre, ma dura solo qualche mese, per cui ci dovremo trovare ad affrontare campagne vaccinali continue. E questo comporterà il fatto che la Regione si doti di una produzione in proprio. Un dato positivo in Toscana, il fatto che 260.000 persone sono già state vaccinate, c'è una grande risposta da parte degli operatori sanitari. Ottima l'iniziativa nei confronti degli insegnanti, del personale scolastico. Eravamo stati noi a chiedere che il mondo della scuola potesse essere vaccinato per prima, allo stesso tempo una risposta importante dei medici di base che daranno risposta alle persone ultraottantenni e queste sono richieste che avevamo avanzato, così come volontari del 118, la protezione civile. Ora chiediamo ovviamente di andare oltre, vaccinare le persone disabili, i loro familiari, indipendentemente dal livello della disabilità, tenendo anche conto e attenzione massima al fatto del luogo dove debbano essere vaccinati, tutti malati cronici, malati oncologici. Queste persone che vivono nelle condizioni di forte fragilità devono essere inserite nelle agende delle vaccinazioni nei prossimi giorni, non soltanto approvvigionamento ma anche massima attenzione alla loro cura. E poi ci sono delle categorie di lavoratori essenziali. Con il vaccino Pfizer e Moderna la categoria sono quelle degli ultraottantenni. È una categoria composta da 320 mila persone, quindi già quella categoria impiegherà diverse settimane. Noi chiediamo con la risoluzione che approviamo oggi in Consiglio di abbinare insieme, in contemporanea, aprire un canale per gli estremamente fragili. Sul canale dell'AstraZeneca, che per ora ha visto vaccinate le categorie indicate dal quarto punto del piano vaccinale nazionale, cioè gli insegnanti, la polizia, eccetera, eccetera, di introdurre fin da subito i caregiver, cioè i familiari che si occupano di una persona estremamente fragile. E siccome nella circolare di ieri c'è scritto che non va usato AstraZeneca sugli estremamente fragili, ma non sui fragili, quindi chiediamo alla Giunta di valutare la possibilità di anticipare subito la vaccinazione di quelle persone che hanno una fragilità non grave. Penso ai diabetici, agli asmatici, a chi ha una disabilità lieve, che possono quindi essere immediatamente inseriti nel canale dell'AstraZeneca se le valutazioni tecniche lo permetteranno, come pare, dalla circolare che ieri ha pubblicato il Ministro della Salute. Parliamo anche di un'iniziativa di solidarietà che coinvolge il Consiglio regionale, ovvero la Fondazione Cure to Children, che ha presentato il nuovo calendario donandolo a tutti i consiglieri. Naturalmente sono state sottolineate tutte le attività fondamentali portate avanti da Cure to Children nel corso degli ultimi anni. Un calendario realizzato con la collaborazione di artisti come Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, per raccogliere fondi per sostenere l'acquisto dei primi farmaci salvavita necessari a sconfiggere una malattia come il neuroblastoma. Il calendario di Cure to Children, che opera in paesi a basso reddito per garantire cure ai bambini malati, è stato presentato in Palazzo del Pegaso e donato ai consiglieri regionali. La Fondazione, nata dall'incontro tra oncologi, pediatri di fama internazionale e un gruppo di genitori che hanno subito la scomparsa dei figli a causa di una patologia tumorale, investe il denaro raccolto affinché le cure vengano prestate direttamente nel paese di origine ad opera di personale sanitario locale, invece di sostituirlo con professionisti stranieri. Il settore operativo è quello dei tumori e delle gravi malattie del sangue nell'infanzia, che costituiscono una delle principali cause di morte dei bambini in tutto il mondo. 13 anni fa nasceva Cure to Children, la cura al bambino. Sembrava un progetto impossibile da realizzarsi, soprattutto anche quando poi scoprimmo che eravamo soltanto noi ad aver avuto quest'idea di andare a curare bambini con gravi malattie del sangue o malatti di cancro in paesi poveri o in via di sviluppo. Abbiamo scoperto che a questi bambini non veniva riservata nessun tipo di terapia, a volte non veniva neanche garantita una corretta diagnosi. Vi posso assicurare che a 40 minuti di volo noi abbiamo trovato queste situazioni. Ci siamo armati di tanta buona volontà, tutta una serie di coincidenze fortunate, tra cui anche la passione e l'amore che ha voluto dedicare a questa organizzazione Leonardo Pieraccioni, che come sapete conosceva uno dei nostri bambini, che era un suo fan e che purtroppo morì. Pieraccioni fu molto scosso da questo accadimento e fin da subito accettò di dare vita a questa missione, a questo progetto. Questa è Chiurto Scegliere. Come dice Pieraccioni, prende parte e fa. Noi non abbiamo mai investito risorse in pubblicità. Sicuramente voi siete abituati a vedere questi manifesti giganteschi, questi autobus vestiti di queste organizzazioni che ormai siamo abituati quasi a subire per certi aspetti. Non avrete mai visto forse Chiurto Scegliere, perché le risorse, modeste, anche se modeste, le indirizziamo tutte in quella direzione. E con gli anni siamo sempre diventati più bravi, perché riusciamo a spendere sempre meno e curare sempre più bambini. Il numero che vi ho detto prima è un numero molto importante, ma ora vi darò un altro numero che vi farà molto riflettere. Generalmente, soprattutto negli ultimi anni, facciamo una media di 260-270 tra pianti di midollo osseo all'anno. Può essere un numero piccolino visto così, ma dovete sapere che per raggiungere questo obiettivo ci vogliono tutti gli ospedali pediatrici italiani. Questo per rendere l'idea che molti ci dipingono come un'organizzazione piccola, piccola forse come bilancio, perché il 5x1000 se andrete a curiosare che i cittadini ci destinano è veramente modesto, però come avrete capito, tanto davvero con poco. Questa è Chiurto Cedri. E con questo è davvero tutto. La nostra puntata termina qui. Vi ricordo l'appuntamento per la prossima settimana e anche l'indirizzo web a cui trovare tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda le attività e le notizie del Consiglio regionale www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento ovviamente su RTV38. Arrivederci.